Ancora un colpo messo a segno nel Val d'Arno e Retino, un furto nella notte al punto vendita a sforazzini buffetti di via Pasteur a Montevarchi. I ladri sarebbero entrati forzando la porta d'ingresso, una volta dentro hanno fatto razzia di materiale elettronico, pc e tablet per un valore stimato di circa 11.000 euro, poi si sono dati alla fuga. Alle spalle si sono lasciati ingenti danni, alla porta manca gli arredi e il registratore di cassa. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che stanno portando avanti le indagini. Sempre nella notte in Val d'Arno i ladri hanno preso di mira anche per l'ennesima volta un punto vendita a Canu, questa volta in zona Sant'Andrea-San Giovanni, lo stesso colpito solamente qualche settimana fa. I banditi avrebbero forzato la porta anche ferendosi e arraffato poi 160 euro dal registratore di cassa. Solamente qualche giorno fa un altro colpo nel territorio valdarnese a Terra Nuova a Bracciolini in via Poggilupi. In questo caso i gnoti si erano introdotti all'interno di una sala scommessa e scassinando la porta per poi portare via la cassaforte contenente circa 10.000 euro, almeno 4 le persone immortalate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.